Una tavola rotonda sull'autismo dal tema Perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te frase tratta dalla canzone di Battiato, La cura si è svolta sabato sera nel Palazzo Municipale di San Nicandro Garganico organizzata dalla Fondazione Centri di Riabilitazione Motoria Padre Pio con il sostegno di alcune associazioni locali Il primo intervento del neuropsichiatra Luigi Ciani è servito a chiarire che lo spettro autistico è un disordine psichiatrico complesso ad esordio in età evolutiva con espressione clinica variabile da soggetto a soggetto e nelle varie fasi dell'età dello stesso soggetto Inoltre, ha spiegato Ciani, nella maggior parte dei casi il disturbo viene segnalato dagli insegnanti elementari quando si accorgono che gli alunni non riescono ad eseguire alcune prestazioni Pertanto il dottor Ciani ha auspicato un patto tra scuola, famiglia e operatori del settore e a quest'ultimi ha chiesto non solo prestazioni ma un coinvolgimento emotivo con i piccoli che presentano lo spettro autistico L'argomento è stato approfondito dalla dottoressa Costantina Squeo psicoterapeuta esperta in diagnosi di autismo che ha illustrato i sintomi caratterizzanti di questo disturbo di natura neurobiologica comportamenti ripetitivi e tendenza ad isolarsi In presenza di questi due elementi, aggiunto la dottoressa Squeo bisogna rivolgersi al pediatra di base e successivamente al neuropsichiatra infantile che si serve di test ma anche di una valutazione della situazione familiare e del contesto ambientale Subito dopo la dottoressa Serena Filoni, direttrice sanitaria dei centri di riabilitazione Padre Pio ha illustrato le tecniche d'avanguardia utilizzate insieme a quelle tradizionali nelle strutture da lei dirette per migliorare le comunicazioni, le attività sensoriali e l'apprendimento di questi bambini In particolare vengono utilizzati il sistema di realtà virtuale nirvana e il tavolo multisensoriale denominato MIRO simile ad un enorme touchscreen con cui stanno ottenendo ottimi risultati constatati da tutti i presenti grazie alla breve ma significativa testimonianza del piccolo Angelo Alla tavola rotonda è intervenuto anche il presidente della fondazione fra Francesco Colacelli che ha annunciato la prossima apertura di due centri territoriali per l'autismo a Sansevero e a Cagnano Varano Grazie Grazie